Mettiamola così. Se tu nel 1974 pubblichi un articolo nel Corriere della Sera dove dici di conoscere i responsabili di quello che veniva definito golpe, oppure i colpevoli, della strage di Piazza Fontana, non solo, anche il nome dei potenti che con il loro potere proteggono queste persone, devi essere pronto a pagare il prezzo più alto. E lui lo era. Io sono Fabrizio Stories e oggi vi parlo di un regista, di un poeta, ma soprattutto di un intellettuale scomodo, Pierpaolo Pasolini. Nel suo celebre articolo Io So, pubblicato nel 1974 nel Corriere della Sera, Pasolini scriveva Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Io so i nomi dei potenti che con il loro potere proteggono i colpevoli. Parlava di una rete invisibile che governava all'ombra, orchestrando eventi come la strage di Piazza Fontana, per mantenere il controllo. Ma nonostante la sua consapevolezza, Pasolini aggiungeva Io so, ma non ho le prove e non ho nemmeno gli indizi. Nella notte del 2 novembre 1975 Pasolini venne trovato morto all'idroscalo di Ostia, vittima di un brutale pestaggio. La versione ufficiale parla di un delitto passionale con Giuseppe Pelosi come unico responsabile. Pelosi ritrattò la sua confessione anni dopo, confessando di essere stato costretto. I segni di violenza sul corpo di Pasolini indicavano un'aggressione multipla, non un semplice litigio. Si dice che Pasolini fosse nel mirino dei servizi segreti per le sue indagini legate alle connessioni tra politica e criminalità. Stava lavorando ad un nuovo romanzo intitolato Petrolio. Un romanzo che avrebbe svelato intrecci tra poteri industriali e politici, con particolare riferimento all'industria petrolifera e multinazionale. Nel suo articolo Io so, Pierpaolo Pasolini lasciava intendere anche il coinvolgimento internazionale dietro questi eventi, come la CIA che aveva supportato delle manovre anticomuniste in Italia. E ciò sollevava il sospetto che dietro la sua morte ci fossero forze ben più potenti di quanto si potesse immaginare. Dopo la sua morte, molti materiali che Pasolini stava raccogliendo per il suo romanzo Petrolio scomparvero misteriosamente. E c'è un altro aneddoto da conoscere che riguarda le indagini. Avete presente il film Salò o le 120 giornate di Sodoma? Bene, prima della sua morte, Pasolini era in cerca di informazioni sulle bobine del film che erano state rubrate. Si sospetta che l'incontro per riaverle potesse essere una trappola unesca per attirarlo all'idroscalo di Ostia. Le domande sulla morte di Pasolini restano ancora oggi senza risposta. Fu davvero solo un crimine passionale? Oppure ci sono state delle potenze che volevano far fuori un intellettuale troppo scomodo? Lascia la tua risposta nei commenti e segui Caffè Noir per tutte le storie che non ti hanno ancora raccontato.